ciao gemelli benvenuti sul mio youtube canale dei talent star tarot back e cito benvenuti su questa lettura la lettura parlata per gennaio 2024 ti chiedo gemelli devo far forzare questa lettura se non ti corrisponde questa lettura generale se vuoi una lettura privata con me trovi tutte le informazioni sul mio infobox sì esattamente questa è una lettura parlata non ho mai fatto questa perfora 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 sto dicendo in inglese prima in lingua italiana questa è cosa la tua persona non ti dice cosa ti viene nascosto può essere anche viceversa gemelli io leggo sempre le energie flessibilità e richiesta allora iniziamo ma love team datemi per favore per la persona dei dei miei gemelli dammi il passato dieci denari sole l'asso di bastoni dammi il presente 5 di coppe 3 di coppe dammi il futuro il matto il generale il 3 di denari vado subito a clarificare così non perdo tempo dammi il 3 di denari per il generale 2 di bastoni 4 di spade dammi 10 di denari 8 di denari il cavaliere di spade dammi sole 2 di spade il risveglio dammi l'asso di bastoni la giustizia la stella dammi 5 di coppe il re di spade il ragazzo di spade 3 di coppe la ruota della fortuna 10 di coppe dammi il matto ok e il 3 di denari di nuovo sotto il mazzo che te lo porta nel generale e da fare fare dell'asso di coppe ok datemi qualche secondo leggo le energie e poi ritorno a voi ok sono pronta gemelli le energie che mi presentano quelle più no dei segni sono leone bilancia sagittario ariete e toro questi sono i main no e anche pesci c'è anche un po di pesci allora iniziamo gemelli mi serve pace in questo momento non non sta esendendo molto dalla mia parte gemelli perché mi sta sembra mi serve tempo mi serve tempo mi serve tranquillità non ti preoccupare farò io il primo passo non è finita niente però c'ho dei progetti c'ho delle situazioni che devo rivedere devo fare devo riguardare mi serve la mia no la mia concentrazione il mio focus anche questa un po questa distanza forse ci farà anche un po bene un po questa pausa no con questo silenzio non pensare che c'ho grilli per la testa perché non ne ho nel passato io facevo veramente di tutto per farti vedere gemelli che la volevo con te e più ho la sensazione più facevo e più non andava bene e più ti incazzavi con me allora come la facevo facevo eri sempre incavolata o non ti andava bene affinché ho detto adesso invece non faccio più niente e vediamo cosa gemelli mi può dare di ritorno vediamo se ecco veramente così facile come pensa gemelli non è facile vero perché presente perché essere determinate nelle nelle circostanze di ogni vita devi metterci di tutto no non possiamo stare solo con la testa o cosa vogliamo di più per la nostra energia dobbiamo anche dare gemelli se tu sei pronta o pronto per dare anche io sono pronta o pronto non devo aspettare niente però importante per me che capisci che le energie no il dai e ricevo deve essere uguale perché tutto è subito e se dovrei dare sempre io non mi va più bene perché il nuovo inizio da me non manca io la voglio con te il nuovo inizio però ti vedo tante volte impulsiva o quando non sei soddisfatta e ti ritrovi quella insoddisfazione che non è difficile lavorarci adesso dipende dipende anche tanto a te gemelli se tu sei pronta o pronto per collaborare con me insieme allora gemelli questa situazione non so se non so se è amore devo dire devo essere sincera non so se è amore può essere però può essere tutto no può essere anche un collega un fratello una sorella un amico può essere tutto può essere anche un port no con chi con cui lavorate questa si può anche essere viceversa come ho già detto però queste persone preferisce adesso avere un attimo di pausa a fare un po' dieci passi indietro e farti capire che se sei impulsiva o impulsivo è come che questa energia mi esprime gemelli è insoddisfatta o insoddisfatto abbastanza veloce come faccio io a farla o farlo contento perché questa energia non è chi dice che finisce per niente anzi però è come che vuole avere un po' più di tranquillità o pace o più serenità per lavorare insieme a te perché è come che dice io la vedo nera loro la vedono bianca io la vedo calda loro la vedono fredda non è una cosa così mi viene no ma è realista questa persona non ci rimanere male diciamola così per questa persona dice ci rimane male volentieri gemelli tenta a rimanerci male volentieri e gli sta la vedo molto intellettuale questa persona dammi un consiglio per i miei gemelli il re di coppe non ce l'ho il tre di enari e l'asso di spade sì sì anche tu il mago sotto il mazzo sei tu tu anche tante volte io può essere che dici sì mi dispiace tante volte sì mi dispiace ma esprimolo no se ti dispiace un quel momento e tu riflettiamo tante volte dobbiamo ah ma io tutti siamo così gemelli e mica solo voi per carità voi poi siete governate a mercurio figurati quello quando lo esprimiamo riflettiamo tutti quanti dobbiamo riflettere di più in quanto parliamo perché tante volte anche se una giornata va un po storta dobbiamo noi essere un po più tranquilli no per avviarci al momento giusto per anche dare qualcosa in più no che invece di essere impulsivi però tu ci tieni ci tieni anche tu e sembra che si calmerà quale acqua è meno male perché questa persona è veramente buona e intenzionata devo dire la verità un like se ti è piaciuto gemelli noi ci vediamo molto presto un caro saluto dalla tua Luana ciao